Il vento di destra soffia anche in Danimarca. Una nuova formazione euroscettica e anti-immigrati, sorta nel 2015, ha raccolto le firme sufficienti per correre alle prossime politiche. Si chiama Nie Borgerlighe e Nuovi Liberali. Chiaro il messaggio della sua leader, Pernille Fermund, che ha spiegato come gli stranieri in Danimarca debbano essere in grado di sostentarsi e i richiedenti asilo debbano essere fermati ai confini. Una chiusura totale, dunque, che si spinge a chiedere una consultazione popolare per abbandonare l'Unione Europea. La Danimarca è già fuori dalla moneta comune, ma i Nuovi Liberali sono convinti che, cavalcando la paura, potranno ottenere gli stessi risultati di partiti euroscettici, come l'Ukip britannico o l'AFD tedesco, alle prossime elezioni che debbono tenersi entro il giugno 2019.